150.000 tra Puglia e Basilicata, tanti sono gli iscritti alla Federazione Pensionati della CISL che ha deciso di unificare le due regioni. È stata una scelta della CISL di mettere insieme regioni non solo nella logica del risparmio di risorse, ma noi lo facciamo soprattutto sull'altare dell'efficienza. Le politiche di Renzi vi piacciono o no? Le politiche di Renzi intanto segnano una svolta, il decisionismo sull'altare però di un proclamato disinteresse nei confronti delle parti sociali rappresentano secondo la CISL, secondo noi, un vulnus per la stessa democrazia. La democrazia si vivifica, trova linfa nel confronto, anche nello scontro, ma non si possono annullare componenti sociali. I pensionati della CISL insieme a quelli di Guilla e CGL entro il 15 maggio invieranno a Renzi questa cartolina con le loro istanze dalla tutela del reddito a un welfare pubblico e solidare per chiudere con la riduzione delle tasse anche per i pensionati.